Ciao a tutti ragazzi e buona vigilia di Atalanta Juventus, partita tosta, pesa, come ha detto Massimiliano Allegri, importante ma non decisiva, non è uno spartiacque, ma ci arriviamo a commentare queste parole di Max Allegri, non vi preoccupate, come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace per supportare questo video e la creazione di nuovi e futuri contenuti e di scaricare OneFootball, sponsor del canale, link per il download qui sotto in descrizione oppure potete scaricarlo inquadrando con la fotocamera del vostro cellulare, questo QR code, potete leggere la conferenza stampa di Allegri e cercare di capire la probabile formazione di domani. Intanto Allegri mi è sembrato teso e molto serio, ci sono alcune conferenze stampa in cui arriva e mi dà questa sensazione, non so perché, forse sono le partite che sento un po' di più, forse sono quelle in cui la tensione inizia già dal giorno prima, non mi ho idea, però oggi mi è sembrato un pochino teso, non so se anche per voi è andata così. Importante ma non decisiva, è un bel passaggio e alla fine dice, non è uno spartiacque perché l'Atalanta ha una partita in meno e quindi è potenzialmente un punto sopra di noi. Caro Max, il bugiardo, come avevamo detto l'altro giorno per Caio d'Oreghe e tante altre cose, anche in questo caso mi sento di dire Max il bugiardo, perché sei stato bugiardo, perché è esattamente l'opposto, proprio perché l'Atalanta ha anche una partita da recuperare, e proprio perché come hai detto te, poi ci torneremo, siamo nel ritorno, più difficile vincere, i punti sono più pesanti e dato che dipende tutto da noi, quella di domani è la partita, lo spartiacque, perché quella di domani è la partita in cui se decidi davvero di giocare, di fare, di essere la Juventus, porti a casa i tre punti, quel famoso obiettivo sassolino dopo sassolino, partita dopo partita, da inseguire l'obiettivo quarto posto, obiettivo in corsa sull'Atalanta, l'hai sistemato molto bene, sei quasi riuscito a metterci una pezza, e poi puoi concentrarti su terminare il campionato e vedere che cosa succede, se poi non succede niente, se tu invece continui il tuo percorso arrivi in Champions, quindi quello di domani è esattamente lo spartiacque della stagione, perché vinci, ti metti in una posizione incredibilmente positiva, pareggi, dopo l'Atalanta ti puoi risuperare recuperando la partita col Toro, perdi, è un disastro, quindi domani è la partita decisiva, perché non vedo un risultato diverso dalla vittoria, certo il pareggio non è così male, però tu non hai ancora mai vinto nessuno scontoretto contro le prime quattro, sarebbe ora di iniziare a vincerlo, piccola battuta a dettaglio, no? Dovessimo vincere domani, comunque non avremmo mai vinto contro le prime quattro, perché a tutti gli effetti al quarto posto c'è la Juventus e l'Atalanta è quinta in questo momento, quindi la vedo come cosa positiva, dato che fino adesso non siamo mai riusciti a vincere contro le prime quattro, eh, l'Atalanta è quinta, vediamo di batterla quinta, quindi quinte magari ne abbiamo già battute durante l'anno, forse la Roma, la Lazio, la Fiorentina sono state in quella posizione quando ci abbiamo giocato contro, è una battuta però per darvi la dimensione e l'idea di quanto sia spartiacque, secondo me, questa partita al contrario di quello che ha detto Allegri, poi pretattica, bugie o magari lo crede davvero, io non credo che lo creda, è il solito giochino che fa Allegri in conferenza stampa, però vediamo, fatemi sapere anche un po' la vostra, secondo me 100% spartiacque, quella di domani. Poi vorrei darvi qualche indicazione sulla formazione, ma per quello che vi dicevo, guardate su OneFootball, non ho idea di cosa dirvi, Allegri oggi bocca cucita, eh, non è uscito niente, non so chi gioca, non so come sta con la partita dopo la partita con il Sassuolo, non so chi ha recuperato, eh, oggi era l'ultimo allenamento, vediamo, perché poi devono partire direzione Bergamo, quindi non si sa niente, non abbiamo niente. Mette le mani avanti dicendo i cambi ci hanno dato molto, sarà così anche in futuro, sì è vero, la rosa della Juventus in questo momento è una rosa anche lunga e ci si può permettere di tenere fuori uno come quadrado, per dire, optando per Danilo terzino destro e poi buttare nella mischia uno come quadrado che sicuramente ti darà qualcosa in più a partita in corso. Stesso ragionamento si può fare per Morata, l'abbiamo visto l'altro giorno, lo stesso Locatelli quando è entrato ha cambiato la partita. Infatti qua si apre una discussione incredibile di vecchia data, anche se vogliamo, sul fatto che Allegri sbagli sempre le formazioni, ma Allegri lo fa consapevolmente, Allegri sa che quella formazione lì non è la migliore e quindi si tiene dei giocatori in grado di spaccare e cambiare la partita. Allegri non ragiona su un primo tempo e un secondo tempo giocati tutti allo stesso ritmo ad alto livello. Allegri ragiona nello spezzettare la partita, nel capire che dentro la partita ci sono altre partite, nel capire che ci sono dei momenti in cui saranno gli altri a giocare, ad attaccare, a sfogarsi e poi ci sarà il momento in cui invece sarai tu. L'esempio perfetto lampante è l'altra sera col Sassuolo, primo tempo lo giocano tutto loro, secondo tempo lo giochiamo noi. Poi c'è sempre ovviamente il discorso che alla Juve viene più sottolineata la critica di aver giocato un tempo piuttosto che al Sassuolo che viene elogiato il fatto che in realtà un tempo l'ha giocato bene. Qua, in questo specifico caso, per il livello la storia e la dimensione delle due squadre, ma mi è capitato di vedere scontri diretti in cui giocavamo un tempo noi, un tempo loro, loro avevamo fatto la partita della vita perché in quel tempo lì come avevamo giocato bene. Noi invece eravamo stronzi perché un tempo l'avevamo sbagliato, ignorando il fatto che anche loro un tempo l'avessero sbagliato e che un tempo non avessimo giocato bene e magari anche meglio, con più occasioni da gol, meno rischi. Quello non conta. Vi invito a ragionare su tutto perché la partita alla fine conta al fischio finale, non il primo tempo. Poi è ovvio che meno primitempi regali agli avversari meglio è, però non funziona esattamente così e quando si fa critica deve essere costruttiva e non un attacco fisso, un martello pneumatico. Perché sennò perde il sapore e l'utilità della critica. Questo va detto e sottolineato con grande chiarezza perché, ripeto, è un discorso talmente antico che viene da anni, 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 che poi uno si stanca anche a tirarlo in ballo e quindi ragiona così. E dice, col Sassuolo abbiamo fatto degli errori di precisione da non commettere più, sì, confermo. E anche degli errori mentali perché dopo la partita siamo usciti, dopo l'1-0 siamo usciti dalla partita. Sottolineando come magari si fossero un po' appoggiati sugli allori. Ah, abbiamo fatto gol dopo 2 minuti e 40 in Coppa Italia col Sassuolo? Bene, abbiamo vinto. No, è quello che dicevo l'altro giorno. Se non rimani nella partita, gli altri ti mangiano la pappa in testa. E quindi sono contento che anche Allegri sia andato a sottolineare questa cosa. Poi, vabbè, discorso all'antatentista, ci vuole equilibrio, bisogna portare più dei soldi alla nostra parte, questo è un passaggio un po' così. Abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia, ora cerchiamo di sistemare anche il campionato, ragioniamo partita dopo partita, perché ora siamo nel ritorno, i punti pesano di più, i palloni pesano di più, diventa tutto più difficile. È vero, è vero, ed è anche uno dei motivi per cui le piccole squadre, una volta, almeno adesso non ci ho fatto caso quest'anno, sono sincero, però una volta si ragionava nel fare il maggior numero di punti subito, fare una preparazione che potesse dare energia e grinta subito a queste squadre. Accumulavano 20-25 punti nelle prime 10-12 giornate, un po' come ha fatto il Bologna, prendo il Bologna ad esempio, poi nelle successive si faceva un po' più fatica, si vinceva meno partite e si lasciava un po' andare, perché poi diventa più complicato se devi salvarti, essere obbligato a fare quei punti lì che sono difficili se non c'è la personalità, la tecnica, il livello, e quindi capisco, e vengano fuori qua le differenze mentali anche tra le squadre. Quindi sì, adesso è più difficile proprio per questo che dico domani cerchiamo di vincere contro un'Atalanta ferita, perché non ci sarà Zapata, non ci sarà il portiere, sono in una situazione di consapevolezza che forse il mondo si è davvero ribaltato e che ora sono loro in Champions se noi no, e siamo noi quelli che non hanno più niente da perdere ma tutto da guadagnare e quindi devono vincere questa partita, cosa che se loro perdono invece diventa tosta, perché ormai sono una realtà consolidata da tanti anni che gioca in Champions, ha detto anche Allegri, ha fatto i complimenti a Gasperini, quindi domani è una partita particolare, proprio perché a me pare di vedere che si è ribaltata un po' tutta la situazione in questo preciso momento storico, poi magari, anzi, magari si spera che tra un anno il ragionamento possa essere inverso e che la Juve possa essere quella che ha da perdere lo scudetto e robe del genere a partita con l'Atalanta, però per il momento è così, loro sono in Champions, noi no potenzialmente vincendo la partita con il Torino e quindi domani sera bisogna vincere, bisogna vincere e dimostrargli che dovranno impegnarsi un po' di più, perché se no in Champions ci andiamo noi. Uno come Vlovic mancava, anche gli altri giocatori ne traggono giocamento, mancava a livello di caratteristiche, sì, siamo d'accordo, l'abbiamo visto tutti, poi Allegri sottolinea un'altra cosa bellissima, questa testuale parole ve la riporto, non abbiamo fatto niente, la normalità della Juventus è vincere le partite, dobbiamo fare il risultato pieno contro una squadra arrabbiata, c'è da fare e non da chiacchierare, Allegri torna su questa cosa, mattoncino dopo mattoncino, partita dopo partita, ne hai vinta una, bene, dimentica te la concentra, già più niente, te ne freghi, perché c'è l'Atalanta, domani c'è l'Atalanta e ti devi concentrare su quella, poi alla fine si vede, accumulando, 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 mettendo lì, si vede, per il momento non hai fatto niente, bravo che torna a bacchettare qua, qua, qua. Poi, Romeo, l'altra volta aveva fatto una domanda all'Ocatella e Artur, stavolta la fa sul tridente, Allegri fa la sua solita faccia, no, quella risatina sotto i baffi, che gli chiede, ma domani il tridente contro l'Atalanta può essere schierato per caratteristica al di là dello stato di forma? E ancora una volta non risponde alla domanda di Romeo, tutte le volte che Romeo gli fa una domanda, Allegri non risponde, poi gli spiego anche il perché, perché Allegri va a sviare, parla di Ken e di Bernardeschi, dicendo, vabbè, Ken potrebbe giocare pure lui, attenzione, c'è anche Ken, Bernardeschi non è ancora a posto, nemmeno Chiellini, domanda sul tridente, risposta Ken Bernardeschi-Chiellini, o pensa a questo tridente, oppure a certe domande Allegri non risponde, e lo sappiamo, che anche questo lo sappiamo, poi dice l'Atalanta ha tanti punti di forza, ma noi dobbiamo insistere sui loro punti deboli, dobbiamo focalizzarci su quelli e giocare su quelli, poi appunto i complimenti a Gasperini, e ancora una volta, centrocampo 2, Locatelli-Zaccaria, Allegri non risponde, e questa è un'altra critica che viene dal passato, ma perché Allegri non parla mai di tattica in conferenza stampa, non parla mai di calcio, ma semplicemente perché dovrebbe farlo, la risposta che vi do io, perché Allegri dovrebbe andare in conferenza stampa a spiegare il giorno prima, la vigilia, come giocherà, l'idea che ha, come vorrà mettere in difficoltà i bastoni tra le ruote all'Atalanta, come a livello tattico cercherà di far male puntando sui loro punti deboli, perché dovrebbe farlo? Così Gasperini se l'ascolta e dice, ah fai così, allora faccio così, o dice una bugia e continua a fare Allegri il bugiardo e quindi fa pretattica, ma se dice la verità è matto, è matto, perché ovviamente poi l'altro allenatore l'ascolta e dice, ah ok, allora io ragiono di conseguenza, perché il calcio l'Italia è una partita a scacchi, ragazzi è utile che ci prendiamo in giro su sta cosa qua, perché mai un allenatore dovrebbe andare ai microfoni e spiegare come vuole vincere la partita, ma se lo terrà per lui, ma non lo farei neanche sotto tortura, ma quali allenatori vanno in conferenza stampa e ti parlano e ti dicono cosa fai, ma quali, ma dove, ma perché, è ovvio che si terranno dentro i loro segreti, si li porteranno nella tomba, ma non esiste sta roba, non esiste, poi gli fanno ancora una domanda sullo scudetto, lo obiettivo è il quarto posto, ma pensiamo partita dopo partita, visto che quelli davanti hanno troppo vantaggio, anche se dovesse mollare l'Inter, ci sono il Milan e il Napoli, che andrebbero a approfittarne, ce ne fosse una, ci crederei, ce ne sono tre, è molto più facile per loro che per noi, ritornello, 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 sappiamo bene che questo weekend diventa molto decisivo, perché se l'Inter non vince a Napoli e tu vinci a Bergamo e poi l'Inter non recupera col Bologna, con lo scontro diretto tra Juve e Inter all'Allianz Stadium, rischia di andare a meno due, quindi questo è il weekend decisivo, poi ci sarà quella partita dell'Inter da recuperare, però capisci che oggi ti giochi veramente tanto, oggi capisci per cosa stai giocando la fine del campionato, oggi inteso come questa giornata, questo weekend. Zaccaria è un bravo giocatore, bravo a giocare a calcio, arriva una squadra pronta come la nostra che da un po' stava dando continuità, è in crescita, sarà un buon inserimento e ci aiuterà tanto. Nessuno si esalti però, perché questa è la normalità della Juve, vincere e vincere quella dopo, e il pareggio non va nemmeno bene. Mi è piaciuto il fatto che Allegri andasse a sottolineare la vittoria e non il pareggio, perché fino adesso abbiamo giocato questi scontri diretti a non perdere, c'era proprio la sensazione che se poi non vinciamo con lo stesso l'importante è non perdere, ed è una roba che mi manda nei matti, è terrificante quando avviene e accade questa cosa qua. Quindi se domani il pareggio non va bene, questa volta spero che non sia Allegri il bugiardo a parlare, ma Allegri l'onesto, c'era Goh che sempre fa una confusione incredibile, e che quindi domani si vada a vincere questa partita e si ragioni sulla vittoria, me lo auguro, davvero. E poi dice, dato che, vabbè, chiesa lungo de gente, si dice lungo de gente, direte sì, Chiellini con qualche problema, Bernardeschi che è prossimo al rientro, siamo meno male tutti in gruppo, quindi si alza anche il livello negli allenamenti, e questo si traduce in prestazioni più di livello in partita. Beh, speriamo che possa essere effettivamente così. Conclusione sul discorso Spartiacue, che è stato il modo in cui io ho aperto il video, e quindi siamo giunti al termine del commento della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, e voglio sapere la vostra opinione. Secondo voi è decisiva questa partita, sì o no? Io ve lo dico tranquillamente, sì. Per me, sì. Perché mancano meno di 15 partite alla fine, è l'ultimo scontro diretto che hai contro una di quelle che si gioca dentro o fuori la Champions, quindi sì, secondo me è un grandissimo Spartiacue, è una partita decisiva, domani sera ho già i brividi, sono già con l'ansia, non so se sono l'unico, fatemi sapere anche la vostra.